Oggi l'incontro con le cooperative del Veneto, cosa rispondere a loro? L'appello che loro hanno lanciato è un appello molto importante. Il mondo del sociale, il mondo della cooperazione è stato massacrato in questi anni. I fondi al sociale sono stati di fatto azzerati, il fondo per la non autosufficienza, il fondo per le famiglie con disabili. Insomma, i più fragili in questa regione sono stati letteralmente abbandonati a se stessi. Tutta l'attività di cura è ancora tutta sulle spalle delle donne, delle donne che appunto pensano ai nipotini, pensano ai malati, pensano ai figli disabili, senza nessun tipo di aiuto da parte di questa regione che ha girato la testa dall'altra parte nei confronti dei più deboli. Guardi, anche dal punto di vista del commercio, i commercianti hanno detto che non è pensabile andare avanti con una politica regionale che ha guardato soltanto alle grandi edificazioni di centri commerciali, determinando lo svuotamento, lo spopolamento, la desertificazione dei centri storici. I commercianti li dobbiamo aiutare con dei fondi ad hoc per consentire loro, per esempio, di riqualificare le proprie botteghe e soprattutto con una pianificazione urbanistica che dica stop al consumo di suolo e stop alla realizzazione di grandi centri commerciali che stanno a mano.